Ciao, sono Massimo Ramella, responsabile del prodotto Rossino. Sono qui per presentarvi una delle grandi innovazioni della stagione 13-14, Alltrack 110 Pro Woman. Il primo scarpone All Mountain Free dedicato alle donne. In Alltrack Pro 110 Woman, con pianta 100 mm, si fondano la potenza, la tenuta e la precisione di uno scarpone a quattro ganci, destinato alla pista e la modularità di uno scarpone da freeride, senza dimenticare tutte le esigenze specifiche, femminili ed una estetica curata. Una griglia ben visibile sullo scafo, la tecnologia Sensor Grid, migliora le qualità dello scarpone, aumentandone la rigidità in torsione e in flessione, e la leggerezza, consentendo il movimento. L'altezza del gambetto è notevolmente inferiore rispetto a quella di un gambetto unisex. La sua forma tulipano nella parte posteriore si adatta meglio alla muscolatura delle sciatrici. La leva posteriore sul gambetto consente di passare con grande facilità dalla posizione ski alla posizione hike e viceversa. I ganci diagonali, sistema brevettato da Rossignol, consentono di ottenere un serraggio più naturale, fissando bene il tallone. Per evitare di scivolare camminando sulle scale o tra le rocce, Alltrack è dotato di una soletta antiscivolo in gomma tra i salvatacco. La scarpetta OptiSensor 3D Woman è stata progettata con la massima attenzione all'anatomia del piede femminile e l'utilizzo del Tinsulate garantisce un isolamento termico eccellente.